salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro batman come avete visto c'eravamo lasciati che abbiamo sconfitto quei scagnozzi del joker abbiamo chiamato il nostro batman abbiamo preso un'arma molto molto interessante prima di iniziare ragazzi vi invito subito immediatamente a lasciare un bellissimo like e iscrivervi sul mio canale attivando anche la campanella così sarete aggiornati sempre quando pubblico nuovi video inoltre seguitemi nelle mie affari e pagine social che troverete il link giù in info box e alla fine del video allora la chiappatopia aveva bisogno di un bel feeder facino per guidare il suo esercito andiamo a trovare l'inigma della chiappatopia attribuito ciò che ci ha lasciato la squadra portata chi è mad dog il cane pazzo allora 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 mmm riusciamo a prendere due o tre ma anche no vabbè tanto dobbiamo andare qui via ho 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 abbiamo preso solo uno vabbè ora ci siamo riusciti abbiamo sbloccato una sfida vogliamo completare anche le sfide vediamo chi si c'è da dietro questa porta va tutto bene tesorucci ci sono qui io adesso povere piccole si lo so che ci ha scoperte ma non gli permetterò di farvi del male lo ucciderò ci si provo ci provo ci la dottoressa yang ha mutato queste piante per produrre il venom si e ho saputo da fonti ufficiose che quella strega ha pagato per questo mi serve il tuo aiuto per trovare l'antidoto perché dovrei che joker si diverta sarà un piacere vedere che ti contorci ecco così tempari sei stata troppo al buio ogni pianta di questa isola riceverà lo stesso trattamento se non collabori c'è una pianta che cresce nel viscere dell'isola di arkham è in grado di annullare gli effetti di questa variante di taita dove si trova? oh nella tana di killer croc pensavi che sarebbe stato più facile vero? torna nella tua cella altrimenti dovrai vedertela con me ti aspetterò ti aspetterò non ha paura di niente Ivy e questo è un grosso errore quindi dobbiamo andare esattamente da killer croc il sistema non dice dove lo tengono ho trovato una porta vicino alla batcaverna ma è sigillata deve esserci un altro modo di entrare ho lasciato la guardia cash nella residenza spero che lui possa illuminarmi sulla tana di croc bene questo episodio lo chiameremo la tana di killer croc vediamo un po' dove si trova ok qua bene che sta vedendo Batman? guarda chi c'è ehi Batman hai preso la strada sbagliata tu resti dove sei con noi o passi non ci prendete tante di quelle botte mamma mia che cosa è stato? facciamola e mi rimane di giù eh? allora se li ci siamo passati o qui siamo in realtà magicamente una porta è un certo oscurato da cof e opterei per il no quindi dobbiamo ripassare qui metri un certo oscurato da cof si diamo no uh c'è un nemico di sotto andiamo a fargli visita ma c'è nero, rimanga giù lei eh, ci rinfreschiamo un po' e andiamo nel lampino come per solito non può funzionare io, polini, penso che l'unico modo sia questo, non, l'acchiappa topi aveva bisogno della cia 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 si, l'acchia cia cia, l'acchiappa topi, questo è il suo nome, questo è il suo nome chiamatelo, l'acchiappa topi, e salve boh, ah non c'è nessuno, oh salve, eccolo oh, l'acchiappa topi, un tempo addetto alla cattura dei topi a Gotham, Otis Flanagan ha iniziato prestamente a segnare una serie di crimini sfruttando il suo dono naturale, l'affinità e la capacità di controllare i rettori, col tempo il suo controllo sui topi è cresciuto fino ad arrivare a minacciare i Gotham City, con un inutilizzo esercito di ratti, più volte incarcerato a Brigade, le mura della prigione non sono riusciti a fermare le sue stanni topi, e lo aiutano in continuazione, è un bel casalto nooo, daviiiid, ma quanto mi dispiace per voi proprio boh fermalo fermalo ecco ma la nana, va e qui non si ritrovi ad altro retto si con quel punto, un veglia rotto e gioiello di famiglia c'è una ricompensa per chi lo mette messo quando arrivano gli accontamenti, Joker ha detto che saremmo diventati più forti di Batman ma lui è la fortuna, dovremo aspettare il nostro turno almeno prendo gli stacco la testa e vado ad appenderla fuori dal munici oh, manca qualcuno, continuo a perdere il conto che cosa è stato, dai, fatti vedere vediamo, vediamo la mia tecnica ragazzi è sempre il Batman telecomandato io ho trovato qualcuno da questa parte intanto tutti vanno lì cosa ti è successo? è uno, è due, è tre è uno, è due è tre è tre è uno grazie vediamo, abbiamo qualcosa no, ottimo andiamo a controllare anche quanti lì abbiamo risolto in costa hai qualche problema trovare una collezione ammetti che sono più intelligenti di Batman io non ammetto niente non ci mancano tanti ragazzi comunque co hai visto giusto mi ha dato il titan anche al netto ok i ammettando che mi aspettavo una pianta killer di 14 metri ma non sempre le cose vengono come vorremmo il titan deve avere un effetto diverso su ivy le sue piante stanno crescendo fra poco saranno fuori controllo ma che le piante subiscano un'altra mutazione bene, dobbiamo stare attenti quel baccello contiene delle spore simili a quelle che ha usato ivy per attaccare gotham l'anno scorso sono mortali eh, distruggiamolo questo baccello ne abbiamo tanti qui eh sì, dovrò fare un altro gameplay dove prenderemo tutti i trofetelli in mezzo ehi, ehi, mamma mia, mi ha fatto con il colpo vabbè, sto mandando un attimino qui e poi prenderemo un attimo un giro, per me va bene ora io la vedo e tu no? ma che? vabbè, 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 qui io stavo facendo altre cose comunque eh ho un po' a rompermi così la scatola, mi scusi eh allora andiamo a prendere tutti i venivi, stiamo qui, grazie sono una stupida, c'è sempre stato che mi gioca è lui che mi ha dato i soldi e che ha fatto in modo di liberare bene come ho fatto, non ho capito mi stava rincappando è diabolico, mi era a creare un esercito di mostri io voglio uscirne, vabbè pronto? pronto, è lo studio della dottoressa Yen le posso signor Wain? cosa? dobbiamo parlare io non ci so Joker ma sentito? aspetta com'è stato di avere accesso al telefono? oh sì, scusa dottoressa ho dovuto sparire i tuoi spazi sono stretti Mi fanno tornare in mente l'inganzia Un'altra menzogna Chi lo sa? Io dicendo no Ma non distraiamoci con i dettagli Allora Voglio tutti i miei mostri Le ho rispedito indietro i soldi Non li voglio Ti sembro uno che dà importanza al denaro Voglio solo che è il mostri, dottoressa E se tu non me li vuoi dare Non sarà divertente Ecco Amminacciare è bello e buono No, no, dove, 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 dove Provenza Saldo qui, signor Batt werden No, Noah Siamo prendere quel trofeo lì Eccoci qua ora quello era nascosto così bene da essere non era nascosto dai, un po' di chi è nascosto se mi si ne vu ah su non so è che non c'è un gadget piccolino riesco a andare sulla roccia ooooh per andare lì vorrei fare un'altra cosa questo non mi ricordo non mi ricordo ragazzi, è da noi ma no ci non allineato ora scusi, scusi non allineato la soluzione ora non allineato ma che tipo di giro ok anche questo è andato ce n'è un altro qui e lo so ce n'è un altro qui dietro quindi non qui ma che parte sta allora ma lì lo so c'è uno uno qui su va bene non si aggrappa si rompe lo vede Batman il signor Batman ma cosa fa ma cosa fa devo dire tutto ma non si può per la logica che dice che sta qui che mi sono perso che mi sono perso ma ragazzi nella prestation 3 quando uscì era molto molto più facile trovare gli enigmi con la modalità detective qui non si riesce a capire niente la bestia era fortissima il suo istinto animale per poco non ne costò la vita riversai tutte le mie frustrazioni su quel paziente gli appunti sul caso lasciavano intendere che era un caso di schizofrenia paranoica le suppliche che esprimeva mentre lo picchiavo a morte suggerivano qualcosa di più le sue confessioni sono state illuminanti la strada era chiara le voglio dare qui sopra come faccio a tanti dove arriva tai uff è qui lana batman ed ecco qui adesso andiamo a trovare il nostro amico killer croc ok ma dritto davanti a noi dice che arrivando di qua via chi lato e qui dovrebbe stare un amico pure qua vediamo qui non c'è eccolo ragazzi stavo facendo il giro largo eh per prendere i trofei qui vediamo ragazzi ragazzi vado a battere barriere metti fantazie boh ok allora intanto qui e rompiamo ciò mima oh via lì su non possiamo per il momento però ci abbiamo la visore dall'alto qui uno due tre e pieno c'è che c'è che c'è un mi mi è un già prende questo il nigma il bel trofeo qui ditemi qual è il vostro gadget o la vostra batmobile preferita va 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 venghi venghi grazie piacere lei faccia un po di... perchè le servono allora dritto davanti a me dovrei avere un enigma mamma mia che cazzata ragazzi ho visto all'improvviso io li odio questi ragazzi, li odio solo di un imprevedibile mi danno un fastidio allora allora allora... di qua... direzione giusta e ne abbiamo due qua più ce ne stanno ancora, c'è solo uno rimane dove sta? allora dobbiamo rompere quella e questa, vanno qui dentro scusate scusate lui qua è baccelli ok potenziamento? no, ancora no per pochissimo ancora non abbiamo un potenzialamento ma scusate ma dove? ma non voglio aggrapparmi lì signor Batman guardi eh, ripeterò a tutti chi è non faccio così eh allora noi entriamo qui eh no da qui eh vabbè andiamo da un'altra parte dopo intanto lo fiamma è potenzialmente il nostro upgrade per favore desideriamo tutto il nostro upgrade ecco che mi riscute e compagno davanti a chi apre la posizione giusta nella vita Allora, prenderemo questo, che può dar fastidio a tirare le pezioni. Allora, prenderemo le pezioni. Sempre la solita entrata, ci può entrare anche da qui. Ragazzi, non vi costa nulla, almeno non quanto costerebbe a Bruce Wayne. Vi raccomando, attivate il tasto iscriversi, che almeno potete seguirmi nelle mie vicende con Batman e altri videogiochi, e anche video di ricette. E attivate la campanella, soprattutto, così appena pubblico salite i primi a vedere i video che sto facendo. L'ottio seguitemi anche su Instagram. Sulle miei pagine social. Sto andando nella direzione giusta? Sì. Dai, non vi costa nulla, è gratis. Allora, quelle sono spore. Io non ci posso andare. Ma che mi unpicco qui? Sì. Non è giusto, ci poteva arrivare benissimo. Mamma mia, che labirinto. Ok, grazie. Ho salvato il diritto di qui? Sì. Batman. Eccomi, catch. Immaginavo che fossi in giro. Qual è il problema con le piante? È complicato. Fammi indovinare. Poison Ivy. È in combutta con Joker? Non è tanto complicato quanto potete. È importante che io riesco a impedire che le piante ricoprano tutta l'isola, ma... C'è sempre un ma, vero? Dove tenete Killer Croc? Ho trovato una porta nelle fogne, ma è sigillata. Il mostro ha la sua cella personale. È tornato in terapia intensiva sotto la stanza di trasferimento. L'ascensore scende nella vecchia fogna. Gli portiamo un po' di carne ogni tanto e cerchiamo di non pensarci. Ma è sotto chiave, più controllato di Joker. Non si può entrare senza l'autorizzazione del direttore. A lui il codice. Grazie, Cash. Resta qui e non avvicinarti alle piante. Quelle uccidono.